Ciao ragazzi, in questo video parleremo di tutti i cambiamenti che saranno fatti agli epici nella patch 2.20, la patch di settembre che uscirà molto probabilmente la settimana prossima. Nell'altro video che ho caricato prima di questo ho fatto vedere tutti i cambiamenti che riceveranno i leggendari. Se non l'avete ancora visto e volete andare a vederlo vi lascio il link qui in alto a destra. In questo video ci occuperemo soltanto degli epici. Al solito vi ricordo, vi lascio qui in basso sulla barra di YouTube tutti i capitoli così se volete andare a vedere subito un campione specifico potete passare direttamente a quel capitolo. Iniziamo con la migliore, forse appunto l'epico migliore che ci sia, Madame Serris, riceverà un piccolo nerf riguardo la terza destrezza. Niente però di così preoccupante, continuerà a rimuovere i buff, a mettere riduce attacco, a mettere riduce difesa soltanto che lo farà con una durata di 2 turni anziché 3 turni. Quindi con i tomi lo potrà fare ogni 4 turni per 2 turni. Diciamo che in arena cambia praticamente nulla perché comunque le partite d'arena sono molto brevi e quindi raramente una partita dura più diciamo di 2 turni in modo tale che serva diciamo che i campioni abbiano questo riduce difesa e riduce attacco per più di 2 turni. In alcune partite succede ma non sono poi così tante. In realtà magari nelle roccaforti o nelle grippe di fazione sarà il posto in cui faticherà un po' di più a mantenere attivi questi debuff. Ma comunque se la fate molto veloce, con molto veloce intendo tipo da darle almeno il doppio della velocità dei nemici cioè se i nemici hanno circa 100 di velocità e voi gliene date più di 200 allora dovrebbe riuscire comunque a mantenere sempre questi debuff perché appunto si prenderebbe 4 turni quando i nemici se ne prendono 2 e scaduti quei debuff li piazzerebbe di nuovo quindi non sarebbe un problema così grave. Quindi diciamo se in arena avete un team molto veloce che vuole chiudere la partita nel giro di un turno, due turni allora non cambia niente alla vostra senris. Parliamo di Alika. L'unico cambiamento che ha Alika sta nella terza destrezza in particolare in questa percentuale. Attacca tutti i nemici, aveva un 35% di probabilità di aumentare di un turno i tempi di ricarica di tutte le destrezze nemiche adesso questo 35% diventa 75% cioè è possibile arrivare al 100% con i tomi. E il tempo di ricarica da 6 turni passa a 4 turni cioè con i tomi diventa 3 turni quindi può usare questa destrezza ogni 3 turni e questa con i tomi ogni 2 turni. Sebbene questo cambiamento sia molto buono per Alika quindi magari ora inizia a diventare un campione davvero utile prima magari sotto certi aspetti lo era già rimane comunque sempre il problema che le servono una montagna di tomi quindi diciamo non è un campione da tutti magari inizia a essere un campione per quelli che spendono molto nel gioco hanno molti modi per accumulare tomi epici e quindi possono permettersi di investire così tanti tomi epici su di lei però appunto è davvero un bel cambiamento. Parliamo adesso di Azur. La sua prima destrezza attacco il nemico due volte piazza un debuff stordimento per un turno se l'obiettivo ha un buff aumento velocità. Si vede aggiunta una frase che dice ogni colpo ha un 30% di possibilità di piazzare un debuff stordimento per un turno. Quindi questa probabilità è del 30% per ogni colpo in generale senza condizioni poi invece se l'obiettivo ha un aumento di velocità questa probabilità diventa invece il 100%. Quindi siamo sicuri di stordire soltanto se c'è un aumento di velocità però se il nemico non ha un aumento di velocità Azur avrà comunque una certa probabilità di stordire il nemico. Poi terza destrezza attacco il nemico piazza un colpo extra se l'obiettivo ha un debuff stordimento il colpo extra è sempre decisivo in più ruberà il 50% del contatore di turno se il nemico non è sotto ad un debuff stordimento. Quindi piazza un colpo extra se ha stordimento se non ha stordimento ruba il 50% del contatore di turno. Diciamo che inizia a diventare abbastanza utile perché la seconda destrezza è uguale praticamente a quella di Nasana cioè protegge tutti gli alleati e si piazza uno scudo pari al 40% della propria vita lui è un campione tipo HP con molta vita di base quindi sarà uno scudo bello grosso. In più ha delle probabilità di stordire ma anche se i nemici non sono sotto stordimento può rubare il contatore di turno dove può essere molto utile questa cosa? Contro Cavaliere Pirico come vi dico sempre una strategia molto forte contro Cavaliere Pirico è quella di manipolare il suo contatore di turno quindi in questo caso non solo riusciamo a togliergli il contatore di turno ma rubarlo significa che Azur si prende il 50% del contatore di turno che aveva il Cavaliere Pirico è una destrezza molto molto forte contro Cavaliere Pirico in più quella prima attacca anche due volte ok magari non può stordire il boss ma può essere anche forte questa cosa nei primi due round contro alcuni nemici può proteggere appunto il team quindi magari inizia a diventare utile anche contro Cavaliere Pirico. Proprietari di Bushi siete pronti a prendere l'ennesima delusione? Andiamo a vedere cosa è successo a Bushi Seconda destrezza attacca un nemico questo attacco è sempre decisivo in più questa destrezza avrà si piazza un aumento tasso decisivo del 30% e un aumento velocità del 15% per 3 turni siccome questa destrezza con i tomi possiamo usarla ogni 3 turni praticamente Bushi avrà sempre attivo questo aumento di tasso decisivo è un aumento di velocità e basta e basta quindi era inutile prima continua ad essere inutile anche adesso perché uno non so se uno dovrebbe buildarlo col tasso decisivo perché questo attacco comunque è sempre decisivo per il resto diciamo che potremmo arrivare al 70% di tasso decisivo visto che comunque avrà il restante 30% attivo sempre ma cosa guadagniamo dal non dover mettere 30% di tasso decisivo? mettiamo un po' di attacco in più, un po' di danno decisivo in più era comunque molto inutile prima non si usava da nessuna parte e continuerà a non essere usato mi ha deluso molto anche il cambiamento su Exia ma ora vediamo la prima destrezza aveva un 35% di probabilità di piazzare un debuff reduci difesa beh, cambia dal 35% al 40% un cambiamento davvero grandissimo la seconda destrezza invece attacca un nemico assegna un turno extra e piazza un debuff aumento attacco del 50% su questo campione per due turni nel caso in cui questo attacco uccida un nemico in più, oltre a questo testo ci sarà scritto aumenta il danno del 7,5% di questo attacco intendo aumenta il danno del 7,5% per ogni debuff su questo campione fino ad un massimo del 30% quindi il danno di questa destrezza può aumentare fino ad un massimo del 30% dipende dal numero di debuff che sono su Exia ma avrà un modo per piazzarsi dei debuff? avrà un modo magari per provocare i nemici in modo tale da farsi attaccare e quindi farsi piazzare dei debuff? lo scopriamo con la terza destrezza allora, la terza destrezza dice attacco nemico guarisce questo campione per il 15% del danno inflitto la guarigione aumenta del 10% per ogni nemico morto e in più si aumenta la velocità cambia questa frase qua invece di essere la guarigione aumenta del 10% per ogni nemico morto sarà la cura aumenta del 10% per ogni debuff su questo campione e basta e basta non viene cambiato praticamente niente dove sono i modi per farsi piazzare questi debuff? siccome due destrezze ormai hanno un qualcosa che aumenta se Exia ha dei debuff dammi un modo per piazzarmi dei debuff piazzati automaticamente dei veleni addosso tipo come se fosse Gurtuk in modo da poter fare più danno così non ha secondo me assolutamente senso questo 35 a 40% senza possibilità di aumentare le percentuali non ha senso, non serve a nulla quindi era inutile e resta totalmente inutile continuiamo il Valzer dei campioni inutili con lo spietato mi spiace per tutti quelli che volevano che diventasse finalmente un campione utile ma non lo sarà perché la prima destrezza allora in ogni caso si vede aumentato leggermente il danno sia della prima che della seconda destrezza non sappiamo quanto sia questo leggermente però dovrebbe essere un numero molto basso la prima destrezza dice attacco nemico due volte adesso in più avrà riempie, si riempie il contatore di turno del 5% per ogni colpo decisivo un po' come per la seconda destrezza che invece se lo riempie del 15% e basta non viene cambiato nient'altro quindi anche qua senza spendere troppe parole era inutile prima è inutile, resterà passiamo adesso a parlare di Guardaossa che con la seconda destrezza attacca un nemico questo attacco provoca il 35% di danno decisivo extra questo 35% verrà cambiato in 50% non così tanto praticamente non cambia quasi nulla terza destrezza attacco nemico piazza un colpo extra se questo attacco è decisivo in più ci sarà scritto riempie il contatore di turno di tutti gli alleati del 15% se questo attacco uccide un nemico quindi siccome fa un colpo extra immagino comunque che questa destrezza faccia abbastanza danno io non l'ho mai testata quindi magari è molto probabile che uccida un nemico e che quindi possa aumentare il contatore di turno di tutti gli alleati può essere una cosa carina però in realtà avrei preferito essendo un campione d'attacco avrei preferito che le avessero messo un danno a dare invece ha in tutte le destrezze attacco un nemico attacco un nemico attacco un nemico quindi un piccolo cambiamento anche se mi aspettavo molto di meglio parliamo adesso di Missionario Missionario l'hanno si potenziato ma anche qua speravo di meglio poteva essere un campione fortissimo comunque adesso vediamo in ogni caso lui è un campione di tipo HP che fino ad ora ha sempre fatto danni basati sull'attacco con tutte le sue destrezze dalla prossima settimana in poi ci sarà scritto invece soltanto danni basati su HP come giusto che sia essendo un campione di tipo HP quindi non dovremo più potenziare anche l'attacco ma soltanto la vita vita tasso decisivo e danno decisivo per fargli fare molto danno uno dei due cambiamenti ce l'ha sulla seconda destrezza leggiamola attacco un nemico ha un 40% di probabilità di piazzare un debuff provocazione per un turno questa probabilità ora passa dal 40% al 75% quindi un valore molto più alto poi continuiamo a leggere se gli attuali HP di questo campione risultano superiori agli attuali HP dell'obiettivo quindi se abbiamo più vita del nemico ha invece un 100% di probabilità di piazzare un debuff provocazione quindi anziché 75% resta 100% questa parte resta in più se ha più vita del nemico oltre a mettere nel 100% dei casi questa provocazione metterà anche una riduzione d'attacco del 50% sul nemico poi la terza destrezza oltre a tutto quello che fa già quindi oltre ad avere una probabilità di piazzare riduci guarigione e riduci velocità ridurrà anche il contatore di turno del nemico del 50% questa diventerà una destrezza fortissima contro il cavaliere pirico perché ridurre la velocità ridurre la guarigione e ridurre il contatore di turno sono tre effetti veramente veramente forti fortissimi più che forti contro il cavaliere pirico l'unico problema è che lui attaccherà una volta con ognuna delle sue destrezze quindi diciamo serve un team che lo supporti facendo molti attacchi al cavaliere pirico per togliere prima i punti dello scudo per poi riuscire a usare questa destrezza correttamente quindi ora la terza destrezza è molto più forte la seconda destrezza è anche comunque forte però però se avessero reso questa destrezza invece di attacca un nemico attacca tutti i nemici sarebbe diventato uno degli epici secondo me più forti in assoluto perché provocare tutti e mettere su tutti riduci e attacco sarebbe stato davvero assurdo poi con questa destrezza qua sarebbe stato davvero un campione meraviglioso peccato che non l'abbiano fatto secondo me hanno perso una possibilità quindi ok magari diventa un po' più utile però secondo me resta comunque un campione abbastanza mediocre a proposito di campioni con danni basati su HP lo stesso cambiamento lo avrà anche Yotun che al momento appunto fa ancora i danni basati sull'attacco anche lui dalla prossima patch avrà i danni basati sull'HP quindi non dobbiamo più alzare il suo attacco ma soltanto la sua vita di nuovo vita tasso e danno allora l'unica destrezza che viene cambiata è la terza ma prima ricordiamoci cosa fa la seconda attacco nemico ha un 75% di probabilità che poi mi tomi diventa 100% di piazzare un debuff brucia HP ora leggiamo la terza attacco nemico riduce i punti vita massimi dell'obiettivo per il 30% del danno inflitto e questa cosa resta in più avrà il danno aumentato del 50% se l'obiettivo è sotto un debuff brucia HP quindi prima usiamo la seconda piazziamo brucia HP dopo attacchiamo con la terza e Yotun farà il 50% in più di danno inoltre il tempo di ricarica di questa destrezza passa da 6 turni a 5 turni dunque sicuramente farà più danni rispetto a prima però bisogna vedere comunque quanto saranno questi danni che farà in base alla vita quindi dobbiamo capire quali saranno i moltiplicatori sulla vita per vedere effettivamente se farà molti danni dopo questa patch però comunque se devo lamentarmi di qualcosa sicuramente mi lamenterò di questo riduce difesa del 30% che non hanno modificato in 60% è un epico fa dei danni attaccando sempre un nemico è un campione che deve fare danno quindi dovrebbe esserci un riduce difesa da qualche parte però è scandaloso che sia soltanto del 30% e tra l'altro con un 40% di probabilità davvero assurdo restiamo sui barbari ce ne saranno ancora diversi di cui parlare passiamo a tesciada tesciada è un campione di tipo difesa fa danno basato sulla difesa e sull'attacco parliamo intanto della seconda destrezza con questa destrezza lei ha con ciascun colpo attacca tre volte con ciascun colpo ha un 50% di possibilità di piazzare un debuff indebolimento con i tomi diventa 75 bene adesso passa da 50 a 75 così che con i tomi diventerà 100% quindi in teoria potrebbe anche mettere indebolimento del 25% col 100% di possibilità su tre nemici attacca sempre a caso però diciamo che un po' meglio di prima poi sulla terza l'unica cosa che cambia è il tempo di ricarica che passa da 4 turni a tre turni vediamo cosa fa con la terza attacca un nemico rianima un alleato a caso con il 40% di HP nel caso questo attacco uccida l'obiettivo disponibile solo quando un alleato è morto quindi se abbiamo tutti in vita questa destrezza non c'è non la possiamo usare se un alleato invece è morto e noi con questa destrezza uccidiamo un obiettivo possiamo rianimare un alleato a caso ora sulla seconda destrezza in realtà cambia molto poco abbiamo visto come percentuale il rianima ogni tre turni potrebbe essere utile però appunto deve uccidere un nemico quindi contro i boss questa destrezza non funziona anzi non può neanche usarla poi non so quanti danni faccia Te Shada perché ha danni basati su difesa e attacco non ho ben presente quali sono i suoi moltiplicatori però anche qua mi sembra che sia un cambiamento abbastanza minimo passiamo adesso a parlare di Maive Maive con la prima destrezza ha un 40% di probabilità di piazzare un debuff sonno per un turno questa probabilità aumenta dal 40 al 60% cambia soltanto questo sulla prima destrezza sulla seconda destrezza viene aggiunta una frase allora lei attacca un nemico piazza un debuff stordimento per due turni se l'obiettivo si trova sotto ad un debuff sonno viene aggiunta un'altra frase che dice piazza un debuff stordimento per un turno quindi senza condizioni dunque se il nemico non è addormentato lo stordiamo per un turno se il nemico invece era già addormentato allora lo stordiamo per due turni ok magari è utile poter stordire o addormentare un po' di più di prima però è ancora un campione d'attacco senza dei danni ad area quindi secondo me inutile la prima e inutile comunque resterà anche se può stordire una volta ogni quattro turni diciamo che non cambia praticamente nulla passiamo adesso a suai primigenia con la prima destrezza c'è un bel cambiamento l'unico cambiamento che mi piace riguardo a lei cioè lei aveva attacco nemico ha un 45% di probabilità di piazzare un debuff blocco debuff per due turni tutto il resto rimane invariato questo blocco debuff si trasforma in un riduce difesa del 60% e la probabilità passa dal 45% al 50% quindi un bel cambiamento finalmente anche suai può mettere il debuff migliore che ci sia cioè la riduzione di difesa poi gli altri due debuff non sono grandissimi con la seconda destrezza attacca un nemico e poi attacca tutti i nemici con un secondo colpo nel caso in cui il primo risultasse decisivo questo colpo provocava il 60% del danno inflitto dal primo colpo e risultava comunque un colpo normale questo 60% diventa ora 80% quindi sarà il secondo colpo su tutti i nemici sarà l'80% del primo colpo però ancora l'attacco risulta essere sempre un colpo normale questa è una cosa che non sopporto non fa danno lei non ha delle destrezze che fanno danni ad aria datele un buon danno ad aria con questa destrezza togliete questa frase finale invece no continua a restare infatti per me il cambiamento suai è comunque molto molto debole continuiamo terza destrezza le probabilità di piazzare questo debuff in debolimento passano dal 50% al 75% così con i tomi può arrivare al 100% però ancora attacca un solo nemico un nemico un nemico sempre la stessa storia questi barbari non riescono a fare dei danni ad aria è assurdo li hanno potenziati quasi tutti praticamente però in realtà non ce n'è uno che sia davvero davvero buono passiamo adesso a parlare di taurus andiamo direttamente sulla seconda destrezza anche qua la probabilità di piazzare in debolimento come era per il campione precedente passa dal 50% al 75% che con i tomi anche qua diventa 100% in più con la terza destrezza questo campione riceve danni pari al 99% dei propri punti vita questa destrezza è stranissima però ha un senso si piazza inammazzabile bla 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 ha un 80% di probabilità che con i tomi diventa 100% di piazzare 3 debuff veleno del 5% su tutti i nemici per 2 turni questi 3 debuff diventano 4 quindi ricordate che taurus si gioca in combo con zavia per fare le speedrun a drago 20 per fare le speedrun tipo in una ventina di secondi o poco più bene adesso taurus metterà un veleno in più quindi siccome zavia fa esplodere tutti i veleni sull'obiettivo facendo direttamente tutto il danno adesso ci sarà un veleno in più da far esplodere quindi zavia farà ancora più danno ne vedremo dunque delle belle spero di trovare zavia magari domani che ci sarà il 2 per sulle blu e vediamo se si potrà riuscire a fare qualcosa con taurus e siccome anch'io ho taurus restiamo sui mutaforma per parlare di teppista sbuffante vediamo come hanno cambiato teppista sbuffante andiamo sulla seconda destrezza dice attacca un nemico ignora la difesa dell'obiettivo nel caso in cui non disponga di buff attivi bene questa cosa sarà verrà aggiunta una frase praticamente qui in mezzo dopo attacca un nemico e dirà ruba due buff a caso dall'obiettivo quindi io mi immagino che lui attacca un nemico ruba i buff però immagino che i buff vengano rubati prima perché altrimenti avrebbe poco senso dire ignora la difesa se l'obiettivo non ha buff perché prima li devi rubare e poi devi attaccare io spero sia così perché altrimenti ha poco senso questa destrezza poi l'altro cambiamento che avrà teppista sarà sulla passiva cioè lui quando viene colpito ha un 30% di probabilità di rimuovere un buff a caso dall'assalitore bene questa parola rimuovere diventerà rubare cioè non solo gli toglie il buff ma se lo mette addosso quindi diciamo qualcosina in più la cosa che non mi piace di teppista sbuffante è che con tutte tre le destrezze ha delle possibilità di sottrarre buff o rubare buff è un po' troppo ridondante cioè con tutte le destrezze fa la stessa cosa io mi aspettavo che gli facessero fare anche qualcosa di più perché non è che un nemico si può mettere dei buff all'infinito prima o poi i buff finiranno quindi che cosa toglie poi teppista quindi mi aspettavo che facessero qualcosa di più la seconda destrezza se è come spero che sia diventa davvero forte però per il resto fa sempre la stessa cosa magari può essere forte contro la fortezza della magia dove il boss si mette solo buff praticamente però a parte quello penso che resterà totalmente inutile parliamo adesso di un campione su cui avevo tante speranze speravo andasse meglio ma vediamo praticamente direi cambiano soltanto le probabilità quella prima aveva un 50% di probabilità di piazzare un debuff riduci guerrigione questo 50% adesso diventa 60% cioè non cambia niente praticamente cioè riduzione guerrigione è uno dei debuff più inutili che ci siano è utile soltanto in pochissimi casi potevano anche renderlo del 90% così che con i tomi andasse al 100% e invece no e invece no passiamo alla seconda destrezza attacca tre volte a caso ogni colpo ha un 30% di probabilità di piazzare uno stordimento questo 30% diventa 40% ma non lo so non lo so troppo poco troppo poco mi aspettavo decisamente di più almeno 50% almeno invece soltanto 10% in più con la terza poi attacca un nemico per 4 volte ogni colpo ha un 50% di probabilità di piazzare un debuff veleno del 5% per due turni con i tomi questa probabilità sale fino al 65% stavolta con i tomi salirà fino al 75% cioè praticamente non cambia quasi niente io volevo che mettesse questi maledetti veleni col 100% di possibilità avete presente quanto sarebbe stato forte ogni 4 turni mettere 4 veleni che ok comunque non è neanche quello che fa dragomorfo perché dragomorfo li mette ogni 3 turni ma dragomorfo è un leggendario ha anche altre destrezze fortissime ma poteva starci che un epico viola potesse mettere 4 veleni ogni 4 turni sarebbe stata fortissima magari si sarebbe giocata anche contro il boss del clan però secondo me resterà comunque un campione totalmente inutile perché questo più 10% di possibilità che hanno messo in tutte e tre le destrezze non cambierà praticamente nulla parlando di speranze che avevo per Rowan passiamo appunto a speranza anche se di lei speravo meglio però qualche cosa l'hanno modificata anche abbastanza bene allora vediamo prima destrezza ha un 15% di probabilità di piazzare un debuff blocco buff questo 15% diventa ora 30% quindi un 15% in più seconda destrezza aumenta di un turno la durata di tutti i buff e fin qua ok piazza un buff scudo equivalente al 15% degli HP di questo campione su tutti gli alleati per due turni questo 15% diventa adesso 25% io l'ho sempre paragonata questa destrezza a quella di Zelota che praticamente fa la stessa cosa ogni 4 turni mette uno scudo su tutti del 20% della propria vita in più mette la guarigione continua per due turni lei al posto della guarigione continua aumenta la durata dei buff però questo scudo era minore di quello di Zelota adesso diventa maggiore diventa del 25% quindi questo cambiamento mi piace poi terza destrezza attacca tutti i nemici ha un 50% di probabilità di rimuovere tutti i buff l'unica cosa che cambia qui è il tempo di ricarica cioè questa destrezza passa da un tempo di ricarica di 6 turni a un tempo di ricarica di 4 turni con i tomi diventa 3 turni quindi questa destrezza può essere anche molto carina io speravo però che questa probabilità con i tomi potesse arrivare al 100% quindi non so portarlo al 75 così 75 più 25 100 però così non è stato quindi comunque è un cambiamento positivo ma poteva andare ancora meglio ultimo campione di cui dobbiamo parlare è Cannoniera Cannoniera con la prima destrezza aveva un 25% di probabilità di piazzare un aumento attacco del 50% su un alleato a caso per due turni adesso diventa questo 25% diventa 50% era una destrezza inutile continua a rimanere una destrezza inutile seconda destrezza attacca un nemico a un 80% che diventa 100% con i tomi di probabilità di piazzare un buff riduci precisione del 50% un debuff un debuff qua c'è un errore riduci precisione del 50% sull'obiettivo per due turni questo attacco è sempre decisivo in più adesso ha un 80% di possibilità che diventa 100% con i tomi di piazzare un debuff sanguisuga per due turni per quanto carino possa essere il debuff sanguisuga da mettere su certi boss era un campione inutile e resterà un campione totalmente inutile perché l'unica cosa che avrebbero dovuto cambiare era la terza destrezza piazza un buff protezione alleato e uno aumenta difesa sull'obiettivo cioè sull'alleato lo piazza quello che avrebbe dovuto fare era piazzarlo su tutti quanti come fanno tutti gli epici simili a lei gli epici difensivi che devono proteggere gli altri quindi una cosa dovevano fare rendere questa una protezione ad area col sanguisuga sarebbe stata molto potente però no quindi era un campione inutile e resta anche lei un campione inutile bene ragazzi quindi questo era il video sugli epici abbiamo visto che in realtà molti hanno avuto dei piccoli buff o dei piccoli nerf non è cambiato moltissimo in realtà su quasi nessuno di questi campioni io vi ricordo che domani sera venerdì 11 settembre alle 21 sul mio canale twitch apriremo più di 1000 schegge antiche non dimenticate questo appuntamento il link al mio canale twitch lo trovate in descrizione quindi ci vediamo domani sera alle 21 vi aspetto in tantissimi ciao ciao ragazzi ciao